Buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della nostra regione. Si segnala personale su strada in A1, il tratto interessato tra Sassomarconi e Aglio in entrambe le direzioni. Un veicolo fermo sull'A1 tra Monte San Savino e Val di Chiana verso Roma. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno tra Ponte della Est e Montopoli-Valdarno, Pedoni in direzione Firenze. Ricordo in A1 panoramica per attività di ispezione della Galleria, domani 23 ottobre e martedì 24, orario notturno 21.06, sarà chiuso il tratto tra il Vivio A1 variante Baccheraia e Pian del Voglio verso Bologna. Chiuso lo svincolo di Roncomilaccio in entrata verso Bologna in uscita provenendo da Roma. È tutto, grazie Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Regione. Regione Toscanao. Regione. Regione. Grazie a tutti